Buone stelle, da Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Oroscopo Ben ritrovati nel nostro giornaliero appuntamento con le stelle. Vi auguriamo un buon ascolto con l'oroscopo. Ariete. Mattinata complicata, quella di oggi sotto il tiro di luna e plutone che non vi lasciano spazio per riflettere. Meglio il pomeriggio, quando vi catturerà un'intensa vitalità guidata dal sole, che oggi cambia segno facendovi uscire da un periodo fino ad ora dimostratosi piuttosto sottotono. Toro. La vostra routine lavorativa tende in questo periodo a tenervi un po' lontani dalla persona amata. Il venerdì è tutto di corsa, per chiudere in tempo le pratiche della settimana. Fate però attenzione a non dare per scontate alcune basi fondamentali, essenziali per la tenuta del rapporto di coppia. Gemelli. Continuate sui vostri passi, beneficiati dal luminoso Marte al vostro fianco, pronto a sostenervi con belle riserve di energia vitale e lucidità di pensiero. Bene anche la vostra forza interiore, favorita dalla luna in acquario, che vi aiuterà a risolvere alcune divergenze venutesi a creare con una persona a voi cara. Cancro. Giornata dal punto di vista sentimentale ricca ed appagante, guidata dal favore di Venere e Mercurio entrambi in ottimo aspetto. Più affaticato il lato fisico, ma con un po' di efficiente organizzazione riuscirete a concludere ciò che avevate lasciato in sospeso negli ultimi giorni. Leone. Le stelle vi guidano in questo periodo verso una fase di cambiamento fondamentale per rinnovarsi e lasciare alle spalle situazioni ormai chiuse. Marte vi invita ad essere più decisionisti, non considerate le vie di mezzo ma puntate su una risposta decisa e sicura. Vergine. E' ora di porre qualche paletto. Le vostre mosse, armatevi di pazienza, vi costerà del tempo extra, ma la costruzione di basi solide nelle vostre iniziative richiede grandi sforzi. Al vostro fianco rimane il sole, alleato fidato che raggiunto Mercurio in Scorpione vi rende più loquaci e solari. Bilancia. La vostra mente è sempre in movimento, tra mille pensieri, progetti e uno sguardo sempre puntato al futuro. Parola d'ordine e organizzazione, Mercurio vi assiste donandovi una bella capacità di vedere tutto in prospettiva. Un pizzico di fantasia non guasta, i sogni fanno parte della motivazione. Scorpione. E' Plutone, il vostro astro guida a firmare questo venerdì, sostenendovi in ambito lavorativo a gestire alcune difficoltà che per ora tendono a toccarvi solo di riflesso. Lasciate spazio al vostro intuito, potreste ora riuscire dove altri prima di voi hanno fallito. Sagittario. Ad avvolgervi oggi la tipica stanchezza da venerdì, quando sentite sempre di più il peso della settimana sulle spalle. Abbandonate ora i pensieri negativi e ponetevi piccoli obiettivi da raggiungere in giornata. Procedere a piccoli passi vi farà sembrare il tutto più leggero. Capricorno. Giornata avvolta da una piacevole energia positiva. Le stelle sono in ascolto e assecondano i vostri sogni. Il loro consiglio è però quello di procedere a piccoli e meditati passi, in situazioni che vi stanno a cuore. Valutate attentamente l'umore di chi vi sarà davanti e capirete subito come agire. Acquario. Intesa assicurata con il partner, oggi che la luna romantica entra nel segno. Vi aspettano momenti unici che vi porteranno a ritrovare pienamente la forza dell'unione. Bene anche la routine, nella quale procedete spediti in ogni decisione. Merito anche di Nettuno che vi accompagna con energia e dinamismo. Pesci. L'amica luna dal Capricorno vi rende oggi sereni e più rilassati, davanti a situazioni e persone particolarmente irritanti. Riuscirete invece a controllare la vostra emotività. Siete consapevoli che ribattere allo stesso tono non vi porterebbe lontano. Al contrario, riuscirete a voltare la situazione a vostro favore. È tutto per il nostro oroscopo di questo venerdì. Vi auguriamo buona fortuna. Radio Punto Zero